Ciao, sono Marco della produzione di Digital Life. Digital Life è il film che racconta come è cambiata la vita con il digitale. Sarà un'opera collettiva realizzata con i vostri video. Vuoi partecipare? Ti spiego come. Per prima cosa, fatti un video selfie, in cui racconti la tua storia e il tuo cambiamento, avvenuto grazie o a causa del digitale. Prenditi il tempo necessario, l'importante è che la tua storia sia chiara. Poi fai altri video, riprendi quello che hai raccontato o che vuoi raccontarci. Oppure mostra dove vivi, la tua città, dove passi il tuo tempo libero o le cose che più ti emozionano. Ora che hai capito cosa filmare, occhio a non fare questi errori. Usa il telefono in orizzontale. Hai mai visto un film in verticale? Non metterti in controluce. Cerca un posto senza troppo rumore! Che cosa puoi raccontare? Sul sito digitallife.org trovi alcuni consigli per il tuo racconto. Come puoi mandare il tuo video? Sempre sul sito troverai un link che ti guiderà passo passo nell'invio dei file. Una volta ricevuto il tuo video, lo pubblicheremo sul sito del film. Ma non solo, la tua storia potrebbe essere selezionata ed entrare nel montaggio finale di Digital Life. Cosa aspetti? Ci vediamo al cinema! Cosa aspetti? Ci vediamo al cinema!